Una galleria d'arte online, quella dove sono conservate le opere dei Celommi, la famiglia di artisti legata a Roseto degli Abruzzi. Una volta digitalizzate le opere saranno così disponibili a tutti. Un portale che raccoglierà, insomma mira a raccogliere tutte le opere di Pasquale, Raffaello e Luigi Celommi, certo. Non è un'opera facile perché abbiamo fatto una stima di circa 6.000 opere e se riusciamo a rintracciarne una bella parte è già un gran lavoro. Per il momento siamo partiti con Pasquale Celommi e abbiamo fatto una stima che ci siano 2.000 opere in giro per il mondo. Noi abbiamo circa 300 foto di quadri, però una gran parte di queste foto ancora non sappiamo né dove sono collocate né conosciamo altre indicazioni di queste opere. Ed è per questo che chiunque si ritrovasse un quadro firmato Celommi può scrivere una mail a catalogazione.celommi.it Tra gli autori della Galleria Digitale, storici d'arte, giornalisti, catalogatori, restauratori, il tutto tramite finanziamento della Fondazione Tercas con il patrocinio della provincia di Teramo e del comune di Roseto degli Abruzzi. Il lavoro è già partito da un po' di tempo, da un anno circa e il 25 settembre inauguriamo, presentiamo questo lavoro fatto fino ad oggi.